Vorrei informarvi di quello che è successo perché è una cosa gravissima. Allora, come saprete, forse dal 96 la legge speciale dà diritto al Comune di Venezia di chiedere a noi cittadini, attraverso la bolletta Veritas, il pagamento del canone per gli scarichi Reflui. A cosa serve questo canone? Dovrebbe finanziare la progettazione di una fognatura, dovrebbe mantenere l'impianto di depurazione, manutenzione straordinaria e ordinaria e dovrebbe anche pagare lo svuotamento delle nostre fosse asettiche biologiche. Quando voi svuotate la vostra fosse asettica, pagate voi o paga il Comune? La risposta già la sapete, la fosse asettica ce la paghiamo noi cittadini, ma l'abbiamo già pagata in canone con la bolletta, quindi non dovremmo pagarla due volte. La legge su questo punto è chiarissima e dice che il canone per gli scarichi Reflui, lo dice l'accordo di programma tra Comune e Magistrato alle Acque, deve pagare il 100% lo svuotamento delle fosse asettiche cittadine. Quindi stiamo votando il bilancio, ho fatto un emendamento per destinare delle risorse a questo servizio, servizio che non è mai stato dato al cittadino dal 1996. Immaginate quanti soldi abbiamo dato che dovevano invece andare a pulire le nostre fosse. Abbiamo passato una mattinata con gli uffici del Comune per elaborare l'emendamento in modo che fosse tecnicamente corretto. Siamo arrivati in consiglio comunale e sapete cosa è successo? Gli uffici hanno dato parere tecnico negativo e gli emendamenti non sono neanche andati al voto. Le inventano proprio tutte per non farci fare il nostro lavoro, ma io ho deciso di organizzare una petizione in questo senso e ho bisogno di tutti voi perché noi dobbiamo pretendere un servizio che paghiamo.